Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con te, ho traversato il deserto cercando di te, tamerò, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di te, più forte di me. Grazie a tutti. Buongiorno. Sono venuta a rincherare la Vespa. Allora ti ho cambiato il sezionino mio. Le due gomme sarebbero 150 euro. Allora per te facciamo 100. 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 No, non va bene, non mi rovina tutta la linea della facciata, non va bene. Ma è solo una, è chiaro. Assolutamente no, quello è da rifare. E poi anche all'alzata perché siamo in ritardo con i tempi e la prossima settimana vengono a controllare. E poi siamo in ritardo con i tempi e la prossima settimana. Ma la varicchia, ti va. No, ma nemmeno. 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 Quindi sono pause. Signorina, l'Evoca ha una certificazione d'inglese di livello C1? Sì. Molto bene. Ma non mi dica, lei ha per caso intenzione di avere figli nei prossimi 36 mesi? Non ho idea di che cosa mi sia successo, ero andata a correre, ma a un certo punto ho sentito un dolore strano come alla caviglia. C'è qualcosa di... non lo so. Vi faccio vedere? Sì, sì, fammi vedere bene. Ok. Adesso dimmi quando ti faccio male e se ti faccio male. Ok. Così? Sulla destra? Sì, sì, male. Allora, vediamo di qua. Un po' meno. Su. Sulla destra. No, io no. Che lei gonfia. No, no, non mi pare. Beh... Levati in una papà. ho visto lato ex anche stasera con un altro che troia hai visto Marco? anche stasera con una diversa è pure gnocca ma come fa? anche oggi ti sei fatto i capelli grazie se mi lasci pubblico quelle tue foto su facebook e non dire cagate ma quando hai ripreso a lavorare non hai davvero più un minuto per questa causa ma schifo mi vergogna di evitare anche le persone a cedere Maurizio ho aumentato le ore perché le hanno diminuite a te eh brava ma se mi stai accusando adesso non fai lì te ne prego Maurizio lasciami il braccio te li stai trovato un anno eh vero? è quello che mi puoi dire ma no che stai dicendo? ha detto ai carabinieri che si sarebbe ucciso ma è quasi certo non ne aveva alcuna intenzione l'unico obiettivo di quest'uomo violento era di eliminare la sua ex fidanzata e all'alba di questa mattina quando ha fatto quella telefonata ai carabinieri lo aveva già fatto posso andare? vai e li conosceva bene? eh sì li conoscevo bene io non mi sarei mai aspettato una cosa del genere nessuno se lo poteva aspettare erano persone normali tranquille gentili incontenti non so non capisco veramente via un altro ciao ciao a te a te a te Sì 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 Sì